Canicattini-Bagni, quarta prova del campionato regionale Enduro 2023. Si svolgerà a Canicattini-Bagni sabato 13 e domenica 14 maggio 2023, la quarta prova del campionato regionale Enduro 2023 della Federazione Motociclista Italiana organizzata dal Motoclub Siracusa preseduto da Antonio Ingarau in collaborazione con l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Paola Menta che per l'occasione istituisce il primo trofeo città di Canicattini-Bagni da assegnare al miglior tempo del terzo giro sulla prova Enduro Test e le realtà associative cittadine con il comitato dei quartieri, il gruppo comunale di protezione civile, l'associazione radiantistica CB Omega e la locale consulta giovanile. Due giorni di sport, festa e natura come assicura l'assessore allo sport Salvatore Di Mauro nel suggestivo scenario delle bellezze paesaggistiche e blei architettoniche del riqualificato centro storico di Canicattini-Bagni con i suoi palazzi Liberty e le chiese barocche che vedrà protagonisti circa 150 atleti delle varie categorie provenienti da tutta la Sicilia con tanto di accompagnatori, meccanici, team a seguito che già da venerdì troveranno sistemazione nelle strutture legislative cittadine della zona.